Processo Marlane, un altro rinvio dell'udienza, prevista per oggi e per il 14 ottobre al Tribunale di Paola e che è stata aggiornata al 28 ottobre. L'udienza di oggi avrebbe dovuto rappresentare l'inizio vero e proprio del processo, a carico di 15 tra proprietari, manager e dirigenti della fabbrica tessile di Praia Mare. Le accuse riguardano reati ambientali, ma soprattutto l'omicidio colposo a causa della morte per tumore di diverse decine di ex operai. Questa mattina sostanzialmente è stato accolto il legittimo impedimento, invocato dall'avvocato Gianluca Luongo, che difende Jean de Jäger. Il processo si è aperto lo scorso mese di aprile, quando sono state soprattutto esaminate le richieste di costituzione di parte civile e le citazioni di enti e soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda. E anche nell'udienza di oggi, tra gli adempimenti procedurali, il collegio giudicante ha accolto la rappresentanza in giudizio di alcuni enti citati nei mesi scorsi come possibili responsabili in solido con Valentino Fashion Group e Manifatture Marzotto. Si tratta di altri soggetti che avrebbero dovuto vigilare direttamente o indirettamente sulla fabbrica, come la presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Eni, per il periodo in cui era proprietaria dello stabilimento attraverso la Lane Rossi, la Marzotto, l'Aspi di Cosenza e il comune di Praia Mare. Quest'ultimo si è fatto rappresentare dall'avvocato Nicola Guerrera. Salgono così ad oltre 200 le parti civili rappresentate nel processo, che vede oltre 100 presunte vittime, alcune ammalate e altre in quanto eredi di persone defunte e 15 imputati. Tra loro il sindaco di Praia Mare Carlo Romonaco, in quanto dirigente di reparto e poi dello stabilimento, che anche oggi ha presenziato all'udienza.